Rispondiamo a un commento di Cristina di due settimane fa Devo dare un esame di storia della musica a debito, mi parleresti di Arnold Schoenberg? Assolutamente sì, fatemi tante richieste come questa perché io sono contentissimo di realizzarvi dei video podcast così che voi mentre siete lì che cucinate, siete sui mezzi, andate a lavoro vi possiate ascoltare e riascoltare queste informazioni che io prendo direttamente dall'ambito accademico dal materiale che ho usato per dare gli esami quindi, insomma, c'è gente che fa pagare i propri appunti e io ve li do gratis quindi fatemi queste domande, assolutamente gli appunti sono del conservatorio Giuseppe Verdi e vanno molto sul generale ovviamente, se vuoi andare più sullo specifico dovrei leggerti la seconda parte di questi appunti ma non è lo scopo di questo video, va in descrizione, ci sono opere più specifiche per approfondire il pensiero del compositore perché è interessante Schoenberg? tanti maestri partono con lo spiegone ma non ci dicono perché stiamo parlando di questo compositore beh, è un compositore che ha avuto modo di riflettere sui grandi temi addirittura sulle cause della guerra mondiale delle guerre mondiali, perché lui purtroppo se ne cucò due cucò è un termine tecnico che è proprio anche appropriato, diciamo, alla drammaticità di questo evento però ragazzi, se non si dà un po' di colore nella vita di questo compositore è veramente molto difficile da digerire perché si tratta di una persona estremamente travagliata che ha avuto purtroppo la sfortuna di vivere entrambe le guerre mondiali quindi di vivere in un tempo assolutamente apocalittico forse addirittura più del nostro se ci può essere un più rispetto a un tempo apocalittico quindi questi temi in cui Schoenberg si sofferma moltissimo dal punto di vista artistico sono quelli delle cause di questa guerra mondiale cioè i compositori in generale a un certo punto si iniziarono a chiedere ma non è che questa cultura dominante questo modo di concepire la cultura molto aristocratico, borghesotto sia stato una delle cause dello scoppio di questa guerra il tempo probabilmente ha dato ragione a questi compositori all'intuizione di questi compositori cioè era assolutamente un tema importantissimo da indagare ma vediamo come Schoenberg lo ha indagato e quali sono stati soprattutto i risvolti di questo nella sua produzione che si divide in tre periodi sostanzialmente il periodo cosiddetto della tonalità allargata quello della atonalità e quello della dodecafonia già qui ci sarebbero da fare delle correzioni perché Schoenberg non parlerà mai di atonalità per Schoenberg la tonalità era una sorta di pantonalità di omnitonalità cioè un comprendere diciamo un allargare i limiti della concezione tonale lui visse dal 74, 1874 al 1951 quindi quelli che dicono è Schoenberg è stato un compositore nel 900 sì, è stato un compositore nel 900 ma non puoi assolutamente in nessun modo farlo risalire a quest'epoca cronologicamente parlando come periodizzazione compositiva lo si ascrive lì ovviamente i corsi sul 900 come questo che stai per dare anche se in realtà il tuo è un debito in effetti diciamo che Schoenberg si parla più nei corsi specifici sul 900 monografici ma lo troverai sicuramente non lo trovi nei corsi dell'800 ecco non è considerato un compositore romantico o appartenente a quelle derive precedenti quindi il compositore nel 900 sì ma non è un uomo del 900 è un uomo dell'800 e il rapporto che ebbe con le con i risvolti artistici con le correnti artistiche della sua epoca furono anche questi abbastanza travagliati Schoenberg era anche un pochino rompiscatole in senso positivo cioè era estremamente pignolo quando si parlava di espressionismo ci teneva a dare una definizione che si accostasse il più possibile a una definizione personale a un modo di intendere questa corrente completamente diverso poi fattualmente da quello che l'espressionismo ha rappresentato cioè lui vedeva in questo termine un uso improprio si chiamava espressionismo una cosa che non aveva niente di espressionismo come lui lo intendeva infatti si riferirà sempre all'espressionismo dicendo il cosiddetto espressionismo quindi quando qualcuno parla di Schoenberg come espressionista beh c'è sempre questo bivio tra un'interpretazione estremamente personale che Schoenberg dava di questo termine e un'interpretazione invece collettiva quella diciamo diffusa alla prima fase di produzione di questo compositore che è la fase della tonalità allargata si scrive un'opera estremamente importante la notte trasfigurata come abbiamo detto in questa fase lui cerca di superare i limiti della tonalità tradizionale cercando comunque tuttavia di mantenere anzi non tuttavia cercando contemporaneamente di mantenere un legame con le strutture essenziali del sistema tonale quindi il tema che viene ripetuto cioè gli stratagemmi del sistema tonale ci sono ma c'è già un anticipo delle tecniche che utilizzerà nella successiva fase detta atonale cosiddetta atonale non da Schoenberg abbiamo capito perché Schoenberg parlava di omni tonalità pantonalità se non sbaglio in un certo punto arriva a definire questa fase quindi abbiamo detto questo inizia nel 1899 con l'opera almeno si fa iniziare in questo periodo con l'opera notte trasfigurata composta da Schoenberg in quest'anno nel 1899 ci troviamo quindi in pieno periodo in pieno come dire termine del novecento il pezzo è scritto per archi e si basa su un poema di Richard Dermel si vanno ad esplorare sostanzialmente dei temi romantici quindi l'amore il dolore la trasfigurazione per questo dico che si tratta tutto sommato di un uomo dell'ottocento non ce lo dobbiamo dimenticare ma con una grande libertà compositiva mai vista in compositori precedenti a discapito di tantissime convenzioni tradizionali pur mantenendo come abbiamo detto fondamentalmente una struttura tonale quindi procedimenti comunque elaborativi della tonalità nella fase della tonalità che abbiamo detto è cosiddetta tonalità l'utilizzo di questo termine cosiddetto riferito però all'espressionismo inizia a denotare quella certa distanza del compositore dalla definizione comunemente attribuita a questa corrente artistica non ci dilunghiamo sul conflitto tra Schenberg e questa etichettatura rigida di espressionista ma dobbiamo dire che per il compositore austriaco la parola espressionismo veniva utilizzata in modo improprio lo abbiamo detto lo ripetiamo pro memoria in altre parole quindi non ci concentriamo sull'espressionismo ma l'epoca in cui questa riflessione si articolava era quella della psicoanalisi quindi in altre parole Schenberg sta cercando di dare un'interpretazione all'espressionismo estremamente moderna perché appunto dissente sì da questa definizione ma cerca di utilizzare i risvolti culturali a lui più vicini per dire beh sapete che c'è in realtà l'espressionismo dovrebbe essere definita essere definita come una corrente che prende l'istinto come punto di partenza della propria produzione cioè per Schenberg è questo il vero espressionismo una corrente che prende l'istinto come punto di partenza ripeto non ci dilunghiamo troppo su questo aspetto ma il fatto che fosse l'epoca della psicoanalisi il fatto che Schenberg parlasse già di una sorta di pretesa razionalità dell'agire umano come se in realtà sotto alla razionalità ci fosse un grande fondo di razionalità inconscia si parla dell'inconscio in questo periodo è molto importante c'è una nota di Schenberg che adesso vorrei leggerti armonia è espressione nient'altro e poi basta con il pathos basta con le musiche poderose di lunghezza illimitata con torri rocce rette costruite con ogni altro ciarpano e colossale la musica deve essere breve concisa in due note non costruire ma esprimere i risultati che spero niente emozioni protratte stilizzate sterilizzate su questo Schenberg avrà modo di ritornare nella fase matura vedremo che in realtà l'esigenza di costruzioni più ampie si farà sentire ma quando lo sentiamo parlare del pathos condannandolo lui non lo intende come l'istinto ma cioè non condanna l'istinto perché altrimenti sarebbe in contraddizione abbiamo detto due secondi fa che gli interessa l'irrazionalità dell'agire umano eccetera eccetera e adesso diciamo leggiamo in questo estratto che basta con il pathos basta con le musiche no allora pathos lui lo intende come una razionalizzazione delle tendenze emotive cioè condanna il modo in cui il pathos era stato veniva usato nel suo tempo come una sorta di formalizzazione dell'istinto cioè è così che veniva usato quella formuletta che formalizzasse l'istinto all'emozione e che poteva essere utilizzata come scamotage come trucchetto patetico che veniva ricercato per ragioni formali nelle composizioni del suo tempo fino al suo tempo diciamo nella maggior parte insomma addirittura in una lettera a Busoni Schoenberg nominerà l'inconscio riferendosi addirittura a una sua logica che non è quella della coscienza quindi Schoenberg inizia a sperimentare con elementi che potessero suggerire questa sorta di irrazionalità di abbandono della buona educazione musicale tra virgolette della tonalità tramite una teorizzazione molto complessa che è espressa da un libro da un trattato appunto il trattato di armonia dove Schoenberg parlerà della cosiddetta melodia suono colore e come si spiega questo termine in parole povere beh l'aspetto più importante forse è quello della rinnovata importanza che Schoenberg darà al timbro musicale che era sempre stato estremamente trascurato fino al periodo di Schoenberg la gerarchia grossomodo musicale era stata altezze cioè l'altezza era un elemento importantissimo tolte le altezze ad un pezzo eri completamente fuori strada durata dinamica e timbro ultimo posto tant'è che Schumann che visse diciamo nel primo momento in cui veramente al timbro stava si stava cercando di dare più importanza il periodo di Berlioz per esempio ecco Schumann a proposito di Berlioz dato che l'abbiamo nominato ebbe modo di leggere la Sinfonie Fantastique e noi sappiamo che non fu tanto convinto di alcuni passaggi orchestrali ma quei passaggi a cui Schumann si riferiva nella versione orchestrale che ovviamente Schumann non aveva avuto modo di leggere perché le letture non è come adesso che c'è YouTube e possiamo andare a vedere a sentire l'orchestra principalmente si suonava una partitura al pianoforte e quindi lui cosa aveva fatto aveva preso una riduzione pianistica e nella riduzione pianistica gli effetti timbrici non ci sono perché il timbro è sempre uno è sempre quello del pianoforte quindi nel momento in cui per esempio noi vogliamo utilizzare l'orchestra per far passare un tema timbricamente tra i vari strumenti quindi senza cambiare la durata senza cambiare le note senza cambiare cambiando solo il timbro quindi cambiando sostanzialmente strumento noi abbiamo una grossa difficoltà da parte di Schumann a interpretare questo perché ripeto leggendo la riduzione pianistica non ci è arrivato non l'ha vista questa differenza perché è vero che in partitura probabilmente gli strumenti erano scritti in modo diverso quindi ovviamente Schumann avrebbe potuto anche semplicemente leggendo una partitura orchestrale intuire quello che stava succedendo ma leggendo dalla riduzione pianistica dove gli strumenti non sono chiaramente assegnati è veramente molto difficile proprio in quei passaggi infatti Berlioz aveva dato estrema importanza alla componente timbrica e quindi il sunto di questa concezione melodia suono colore è una rinnovata importanza del timbro che all'epoca di Schoenberg si tentò in vari modi di realizzare egli in particolare tentò di realizzarla in uno dei pezzi per orchestra opus 16 un pezzo che si intitola proprio colori non a caso e tra i vari strumenti tra i vari elementi c'è un accordo che passa attraverso l'orchestra cambiando proprio colore quindi il senso musicale è affidato al timbro il massimo della tendenza aforistica di Schoenberg perché parliamo di pezzi estremamente brevi abbiamo detto che abbiamo letto in quello stralcio che non amava le grandi strutture la vediamo nei pezzi per pianoforte opus 19 che puoi ascoltare su youtube comunque è una raccolta scritta dopo aver avuto notizia della scomparsa del suo amico e compositore Mahler e sono pezzi veramente delle nuvolette cioè veramente si esauriscono in un attimo e su questo adesso avremo modo di vedere Schoenberg dovrà ritornare perché appunto questa brevità a un certo punto della sua produzione non gli starà più bene vedremo il perché tra poco per quanto riguarda la il periodo atonale una opera estremamente forse l'opera più importante di questo periodo anzi è il Pierrot Luner cioè il l'opera in cui Pierrot viene messo in scena non c'è una vera e propria storia che viene raccontata lungo quest'opera non c'è un senso che emerge leggendo una poesia dopo l'altra quindi si ritorna a quella logica che non è quella cosciente ogni poesia non è legata alle altre la voce che Schoenberg chiede non c'entra niente con quella di Pierrot perché è di genere femminile quindi dovremmo parlare di Pierrette ma sì d'accordo c'è il personaggio esiste Pierrette effettivamente ma poi si rappresenta Pierrot e l'opera si chiama Pierrot Luner quindi non si capisce perché ci sia questo personaggio intorno a cui ruota l'intero circolo di poesie poi questa voce femminile che narra il tutto quindi è abbastanza singolare una voce femminile che non deve essere solo una cantante perché c'era stato un ritorno all'interesse del melologo questo genere che prevedeva il parlato accompagnato da musica quindi una musica non particolarmente importante non particolarmente significativa per esempio un melologo lo abbiamo in russo va bene l'opera comique francese insomma si arriva in questo modo fino all'ottocento ma l'opera comique in realtà era morta da tempo a questo punto comunque il melologo è una parte dell'intera opera quindi nell'opera c'erano personaggi sulla scena che recitavano e contemporaneamente veniva eseguita musica che ovviamente non era ciò su cui più si incentrava l'interesse del pubblico mentre invece ecco adesso mi sta venendo anche Strauss scrive un melologo Eno Carden dove c'è una voce recitante che racconta una storia quindi dicevo ovviamente nel melologo tradizionale l'attenzione è incentrata sulla vicenda cioè su quello che viene recitato si tratta proprio di una via di mezzo tra il parlato e il cantato cioè per rendere l'idea pensiamo al greco in greco antico la differenza tra la voce cantata e parlata era che la voce cantata aveva una separazione netta tra le varie note un'altezza raggiunta in modo netto invece nel parlato le note si raggiungevano con si raggiungono anche oggi con dei vari glissando io adesso non ho parlato così e poi così direttamente ma sono arrivato sono arrivato a quella nota sentite arrivato a quella nota a quella nota in maniera glissata quindi intonazioni che si raggiungono con dei glissando la prima cantante che tentò di eseguire questa tecnica che fondeva questi questi approcci e cercava di rendere con questi glissando attraverso il canto la maniera del parlato è stata Albertine Zem questa cantante di cui probabilmente ho pronunciato male il nome fu una delle primissime nella prima esecuzione del 6 ottobre 1912 a mettere in pratica lo Spreckstimme o Spragesang che è questa tecnica appunto dove la melodia viene segnata con dei simboli ben precisi se vai a vedere le partiture di Schoenberg le vedi li vedi questi simboli e che quindi non era destinata salvo precise indicazioni ovviamente a essere cantata quindi c'era un'indicazione in particolare in quel punto non dovevi cantare dovevi usare questa tecnica lo Spragesang Schoenberg stesso dirà ho qui davanti l'appunto l'esecutore si renda conto della differenza tra suono cantato e parlato il suono cantato conserva immutata la sua altezza mentre il suono parlato dà sì l'altezza della nota ma l'abbandona subito scendendo o salendo quindi Schoenberg non desidera assolutamente un parlato realistico ma deve essere ben chiara la differenza tra parlato reale e parlato musicale alla fase della atonalità che abbiamo detto Schoenberg non chiamava così ma è passata storicamente con questo termine si fa seguire la fase della dodecafonia e qui parliamo di una crisi di Schoenberg nella atonalità così libera non si possono scrivere pezzi lunghi per varie ragioni che adesso non ti sto a linkare perché ripeto non voglio andare troppo sullo specifico in questo video e quindi Schoenberg diventa sempre più ossessionato da un'idea di voler ampliare queste piccole forme e soprattutto da un'idea di chiarezza formale perché questa chiarezza che non c'entra niente col fatto che le forme fossero piccole perché voleva andare contro al tardo romanticismo a ciò che aveva caratterizzato tutti gli aspetti della cultura musicale fino a quel momento che vedeva come responsabili responsabili direttamente no ma corresponsabili dei massacri del massacro della prima guerra mondiale e quindi se la cultura occidentale con questa sua raffinatezza non è riuscita a evitare il conflitto della guerra mondiale evidentemente questa cultura non riusciva ad arrivare a chi aveva familiarità con essa e a un numero diciamo maggiore di persone che non fossero soltanto gli addetti ai lavori molto attuale questa riflessione un possibile parallelo di questa concezione se pensiamo all'architettura potrebbe essere il passaggio dalla Arnavo al funzionalismo dove c'era questa sorta di convinzione che indulgere diciamo lì nel 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 decorativismo fosse sbagliato c'è un famosissimo architetto viennese Adolf Loos che scrive proprio un testo intitolato l'ornamento è delitto dice lui addirittura e poi vabbè il dadaismo che denuncia in modo drastico la cultura del passato che è concepita come complice di tutte le tragedie della prima guerra mondiale quindi forse qualcuno avrà accostato anche Schoenberg al dadaismo ma non era assolutamente un dadaista diciamo che risentì semplicemente di questo ritorno all'ordine che costituiva una sorta di spirito del tempo nel periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale c'era proprio il bisogno di tornare a una costruzione pianificata razionale che si sperava fosse un pochino più comprensibile ai non addetti ai lavori e qui potremmo parlare della suite opus 25 che tra l'altro è del 1925 quindi c'è questa ossessione alla chiarezza anche in una sorta di numerologia non a caso poi opus 26 è del 1926 quindi te le ricordi anche molto facilmente perché 1925 25 1926 1926 che sono due composizioni estremamente importanti dove Schoenberg riprende le grandi forme quintetto per fiati suite tradizionali e abbiamo addirittura un movimento in forma sonata nel primo movimento dell'opus 26 ma anche il movimento in forma di rondò in realtà cioè è una collezione di forme tradizionali quindi si tratta di tutto il contrario di una spinta in avanti questo questo periodo di Schoenberg il periodo dodecafonico c'è addirittura un ritorno indietro un ritorno alle alle forme tradizionali che Schoenberg impiega per ovviamente unitamente alla tecnica della compositiva della dodecafonia per come dire ampliare le possibilità strutturali della della sua maniera di comporre della maniera di comporre che aveva adottato sino a quel momento quindi cosa aspetti iscriviti ovviamente al canale lascia un mi piace sotto a questo video mi raccomando e soprattutto un commento se tutto questo lavoro insomma è stato ti è stato di aiuto ecco quindi ci vediamo come sempre nel prossimo video il prossimo martedì ciao ciao